Ciao a tutti ragazzi, sono Danie03, le vedete quelle lattine? Precisamente quelle otto lattine? Ecco, faremo un video su quelle Ecco quelle qui prese, come potete vedere sono tutte le componenti della mia mini collezione adesso le andremo a vedere una per una La prima lattina che vi voglio far vedere è quella più famosa e quella più comprata cioè la coca cola, come potete vedere la coca cola original taste ovviamente questa l'ho presa a una pizzeria qualche giorno fa per berla insieme alla pizza diciamo altra lattina c'è la pepsi la pepsi, ovviamente la cherry marivale della coca cola potete vedere, questa l'ho presa a scuola perché c'è un bar a scuola e la metto insieme alla coca cola vicina perché è cascata, non lo so perché poi abbiamo la lattina di Aquaman che sinceramente non è che mi piace poi così tanto però è della Justice League è rara, anche se è quella lì meno rara della serie Justice League Lemon Soda e Orange Soda guardate quanto è figa vale abbastanza soldi e la metto anche quella lì poi c'è la Lemon Soda, quella di Superman come vedete vedere è fighissima che il mio superhero preferito come potete vedere è Superman insieme alla Justice League la Lemon Soda e diciamo è il mio superhero preferito anche se leggermente non so se si vede, eccola ecco qua un po' rovinata leggermente rovinata si vede e vabbè comunque questa qui è una delle più rare lattine oh cazzo che c'ho altra lattina molto comune è la San Mennetto Tè guardate qui molto bella anche se è molto comune come potete vedere è il limone però c'è pochissimo limone se si vede si si vede benissimo 0,1% di succo di limone e 0,1% di tè non so perché lo chiamano tè hanno pure il coraggio questa qui invece è un po' complicato molto rara da trovare è della dell'Angelica la Vettermine erbe minerali aloe vera 30% 240 ml molto piccola molto piccola come lattina però buona questo che l'aveva bevuta mia mamma l'ho conservata anche perché era molto rara 30% di aloe vera finalmente una bevanda che si può male aloe vera ultima ma non meno importante è la San Pellegrino sinceramente è quella che mi è piaciuta di meno berla perché è 20% di arancia come potete vedere è 20% di succo di arancia e l'arancia è un po' amara non mi piace poi c'era poco zucchero rispetto alle altre e che aggiunge 33cl una normalissima bevanda bibita lattina e questo è tutto queste sono le lattine le ho presentate tutte non mi chiedete perché questa qui non abbia il beccuccio come le altre come potete vedere tutte le altre lo hanno e vabbè ci vediamo alla prossima e ci ciao grazie a tutti